Partita della vita ieri a Soriano, un dentro o fuori da far venire i brividi. Nell'entroterra vibonese arriva l'Acri con al seguito più di 150 tifosi pronti a sostenere l'undici di mister Andreoli, al secondo miracolo dopo quello di sette giorni prima contro il Sersale. I lupi Cosentini sono privi dei tre squalificati contro il Sersale e con Provenzano che parte in panchina e in più senza la loro guida, anche egli in tribuna, mentre mister Saladino ha tutti gli uomini a disposizione. Arbitro della gara il signor Galasso della sezione di Ciampino. Pronti via, ma di occasioni da rete manco l'ombra, troppa la tensione in campo. Per vedere la prima conclusione in porta, bisogna attendere il sedicesimo, quando Curcio calcia una punizione che Bellanza smanaccia. Sulla respinta si avventa Trovato che però calcia alto. Dieci minuti dopo, altra conclusione sorianese con Greco. Ancora Bellanza a respingere e ancora trovato a calciare fuori. Due minuti dopo, ecco gli ospiti. Palla in verticale per Kabangu, il quale dribbla De Sio e deposita in rete, ma l'albitro annulla per presunto offside. Rivediamo le immagini. Al trentacinquesimo, doppio intervento su Gallo, prima di un difensore, poi del portiere. L'azione sfuma e così si chiude anche la prima parte, sul risultato di 0 a 0. Si riparte dopo la sosta, con i padroni di casa che dettono i ritmi della gara. E al nono c'è una conclusione di Greco, il migliore dei suoi, deviata. Sulla sfera si avventa Giugio Eloni che batte a colpo sicuro, ma Bellanza si supera e salva il risultato. Al diciassettesimo ecco il pericolo per l'undici di casa. Rinvio lungo del portiere. Indecisione tra Popan e De Sio. Si avventa sulla sfera Le Piane che però calcia clamorosamente fuori. Due minuti dopo, ancora Acri, con questa conclusione dal limite di Gradilone, deviata da un calciatore che sfiora il montante. Niente più da qui alla fine e quindi match che si conclude sul risultato di 0 a 0 ed esito della gara rimandato ai 30 minuti dei supplementari. Nel primo tempo, solo Soriano, pericoloso, prima concurcio che mette al centro per Giugio Eloni, che è anticipato in corner. Poi con Stillitano, che gira di testa ma la sua conclusione è out. Quindi Bellanza respinge in corner questa conclusione di Nicolovici. Mezz'ora di attesa per il secondo tempo. In quanto un petardo lanciato dal settore ospite fa crollare a terra Fabio. Per lui ci vorrà l'intervento dell'ambulanza. Si riparte, ma l'Acri che dovrebbe segnare per salvarsi non crea pericoli. Anzi, il Soriano è l'occasione per passare prima con il nuovo entrato Perri, che tutto solo davanti al portiere ospite si fa ipnotizzare. Quindi al diciannovesimo, intervento in aria e su Greco, per l'arbitro non ci sono dubbi e decreta il penalty. Dal dischetto lo stesso numero 8 trasforma per l'apoteosis orienese.